Rivedere la legge 194, la legge riguardo l'interruzione di gravidanza e al contempo sostenere con progetti concreti il valore sociale della maternità. Questi in estrema sintesi i contenuti della mozione presentata alla stampa dal consigliere comunale Alberto Zegler e sottoscritta da altri 11 consiglieri comunali fra i quali il sindaco Sboarina. Ma bisogna partire dalla legge 194 del 1978. Dopo 40 anni serve una revisione. Dopo 40 anni sicuramente bisogna fare un tagliando perché è stata inapplicata in alcune parti importanti, per esempio nella prevenzione relativamente alle cause che inducono le donne ad abortire, che sono spesso l'abbandono del partner, che sono la solitudine, la possibilità, la paura di perdere il lavoro e forse anche una certa cultura della morte che si è diffusa sempre più, per esempio con le diagnosi prenatali in fauste, anche solo al minimo sospetto, quando invece sappiamo che a Roma, per esempio, ma anche a Milano e in altre città esistono degli ospedali specializzati nella gestione delle maternità difficili, cioè fanno delle interventi in utero. Il professor Pino Noia a Roma, al Policlinico Gemelli, fa miracoli. La mozione chiede al Consiglio Comunale di inserire nel prossimo assestamento di bilancio un congruo finanziamento al progetto Gemma, di promuovere il progetto regionale Culla Segreta per il parto in anonimato, stampando e diffondendo informazioni in merito e poi di proclamare ufficialmente Verona, città a favore della vita. Sicuramente la mozione entra in un paio di idee, ma ce ne sono tante altre. Una è quella del progetto Gemma, che è un'iniziativa nata negli anni 90 per aiutare le mamme in difficoltà, anche economica, che spesso sono indotte ad abortire per la paura di perdere il posto di lavoro, perché non sanno come fare. Il progetto Gemma consiste in una raccolta di fondi da parte di chi che sia, privati, ma anche comuni, anche gruppi di carcerati, gruppi di associazioni, l'hanno fatto in tanti in Italia. Questi soldi confluiscono in una fondazione, la fondazione li distribuisce secondo le necessità e secondo anche, si può anche accedere alle informazioni, insomma, proteggendo la privacy naturalmente delle mamme. Nell'ordine del giorno collegato alla mozione, la consigliera comunale Anna Grassi ha voluto inserire un altro argomento importante, la sepoltura dei bambini mai nati. Vogliamo invitare l'amministrazione e il sindaco a predisporre uno spazio idoneo ai bambini mai nati, ovvero quei bambini morti prima della 28esima settimana di gestazione. Al cimitero monumentale è già prevista un'area con un monumento, chiediamo che venga predisposta un'area idonea. Inoltre chiediamo che venga fatta una adeguata sponsorizzazione della giornata mondiale dei bambini mai nati.